A 70 anni dalle prime elezioni a cui le donne italiane parteciparono con il diritto di eleggere e di essere elette, la Camera dei Deputati intende ripercorrere attraverso documenti d'archivio, atti parlamentari, materiali bibliografici, fotografici e audiovisivi il lungo percorso compiuto per la conquista del suffragio femminile. La mostra 1946, l'anno della svolta, è stata inaugurata dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini, e la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa mostra è un contributo per far capire alle nostre figlie che i loro diritti arrivano da lontano, non sono caduti dal cielo, né sono frutto di una gentile concessione. I loro diritti nascono dall'impegno, i loro diritti nascono dalla lotta, dalla tenacia e dalla perseveranza di tante donne che si sono spese generosamente per dare alle future generazioni una vita migliore. La mostra è allestita all'interno della Sala della Lupa, che nel giugno del 1946 ospitò la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e Repubblica. La sala dunque è dove nacque la Repubblica Italiana e che viene riaperta per l'occasione dopo quattro anni di attenti restauri. Il 1946 è stato l'anno della svolta, l'anno nel quale le donne votarono per la prima volta ed entrarono a far parte dell'Assemblea Costituente, a cui era affidato il compito di redigere la Carta Costituzionale dell'Italia Repubblicana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. La mostra sarà aperta al pubblico dal 1 giugno fino al 31 ottobre 2016. Tutti devono collaborare per andare a sostenere il nostro paese e per riuscire a farlo evolvere. Ritengo che noi donne abbiamo fatto un lungo cammino sulla strada dei diritti, ma non è finita, perché oltre ai diritti ci vuole anche un cambio di cultura, di mentalità. Per questo è importante insegnare fin da piccoli ai bambini e alle bambine il rispetto di genere nelle scuole. Ci sono qui alla Camera parecchie proposte di legge sul rispetto di genere, fatte da vari partiti di tutti i tipi. Questa proposta secondo me dovrebbe essere portata in aula e approvata, perché questo aiuterebbe una educazione, una formazione a rispetto fin dai primi anni. E lo vediamo anche rispetto a quanto succede. La violenza mascherata da amore che continua a ammietere vittime, l'ultimo agghiacciante accadimento. Questa Sara che io non posso immaginare come un uomo possa uscire da casa con l'alcol, con l'intenzione di cospargere la persona che avrebbe dovuto amare e darle fuoco. Cioè è aberrante.